Avventura amara per un cacciatore di 53 anni, scivolato lungo il sentiero montano che ricade nel territorio comunale di Bugnara. L'incidente, l'ennesimo che si verifica sulle montagne abruzzesi, è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. L'uomo, a causa della caduta, ha rimediato diverse scoriazioni, alle quali si aggiunge anche la frattura della caviglia da trattare, presumibilmente, sotto i ferri in sala operatoria. Il 53enne, che era andato a caccia con un gruppo di persone, riuscire ad allertare i soccorsi sul posto, vista la zona particolarmente impervia, è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco dell'Aquila. I pompieri, non senza difficoltà, sono riusciti a recuperare il 53enne che, da quanto si è preso, era scivolato per una decina di metri, dove aver messo un piede in fallo. Il cacciatore, dolorante e affaticato, è stato quindi trasferito in elicottero, nel piazzale dell'ingoronata di Sulmona, dove ad attenderlo c'erano i medici dell'ambulanza del 118. Dopo una prima visita effettuata sul posto, l'uomo è stato trasferito nel vicino pronto soccorso dell'ospedale cittadino per essere sottoposto ai vari accertamenti sanitari. I medici hanno diagnosticato una frattura alla caviglia, per questo, dopo l'ingresso in sala operatoria, il 53enne è stato ricoverato nella struttura ospedaliera sulmonese, dove si trova tuttora sotto osservazione. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione.